Hola amici, benvenuti in questo nuovo video. Per chi non avesse mai visto il nostro canale, siamo Alfredo e Giorgia, residenti in Messico da un anno, e ci troviamo sull'isola di Cozumel. Oggi vi portiamo a visitare Punta Sur. Ma prima, la sigla. Hola amici, vi piacerebbe vivere ai Caraibi? Noi l'abbiamo fatto. Seguendo la nostra guida, ci riuscirete anche voi. Noi l'abbiamo fatto. Noi l'abbiamo fatto. Noi l'abbiamo fatto. piena regola ok ragazzi facciamo un salto in Australia sono solo 13.000 km beh il motorino è comodo allora piccola pausa ci riposiamo un attimino di fronte al mare siamo appena stati al museo della navigazione dove praticamente c'è anche la stanza la casa del guardiano del faro però non ci resta che fare un giretto sulla laguna è mezz'ora che giriamo con il motorino senza una meta apparente probabilmente ci siamo persi chilometri e chilometri di strada sterrata in mezzo alla foresta e alle mangrovie e qui non c'è nessuna copertura telefonica il telefono non prende allora piccola pausa su questa fantastica altalene bellissimo il museo della navigazione bellissimo il faro da lassù c'è una vista fantastica purtroppo non siamo riusciti non abbiamo fatto in tempo a fare la gita sul catamarano nella laguna però dai un po' codrillo siamo riusciti a vederlo ci torneremo tanto mi raccomando se questo video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao